ciao amici di napolità buon inizio settimana con la gioia nel cuore perché ieri il napoli stravince contro il cagliari una partita diciamo complicata che poi andiamo analizzare domani ma prima di iniziare ragazzi voglio mandare un messaggio importante a tutti quelli che hanno partecipato al contest che è finito ovviamente il giorno 13 ma fate attenzione massima perché tra poco tra pochissimo uscirà uno short qui su youtube dove vi dirò come fare per scrivere la risposta esatta il numero di marchi dorati che sono usciti durante i video mi raccomando e state attenti agli short voglio come sempre ringraziare tutti i nuovi abbonati e voglio invitare chi sta guardando questo video ad iscriversi al canale ad attivare la campanella delle notifiche a lasciare un like e un commento e per noi è fondamentale ragazzi il cuore nello zucchero perché il napoli tra vince 4 a 0 una partita complicatissima perché lì a cagliari non è mai facile nell'ultimo periodo diciamo nelle ultime uscite il napoli ha avuto tantissime difficoltà e ricordiamoci anche una partita del napoli stratosferico di spalletti che vinse di misura il cagliari è una squadra tignosa e soprattutto ora con l'arrivo di nicola è diventata ancora più complicata da affrontare perché poi parliamoci chiaro raga il napoli vince con un 4 a 0 sonoro però ci sono state delle difficoltà durante la gara io sto preparando un'analisi tattica importantissima prima di tutto vi voglio far vedere il video uscirà domani la fase di gestione di sviluppo con romelu lukaku che è importantissima vi porto proprio nell'analisi stretta di come sfruttare un attaccante come lui ma soprattutto come andare a lavorarci intorno che quella è la cosa fondamentale ma poi ci sono ancora delle criticità e delle problematiche sulla doppia fase perché il napoli in determinati momenti della partita si è ancora un po allungato e ancora qualche problemino di letture da parte dei difensori che hanno fatto un'ottima partita come avete visto ho messo le mie pagelle sui social andatele a vedere fatemi sapere se siete d'accordo perché dovete anche dire anzi io ve le metto qui le pagelle così nei commenti mi dite se siete d'accordo o no con me perché questi sono i miei voti però a me interessa i vostri fatemelo sapere nei commenti ve la lascio qui la pagella così la vedete meglio quindi cosa possiamo dire possiamo parlare di un napoli che ha giocato bene in modo convincente fino a che è successa quella situazione becera tra tifosi che io voglio sempre mettere da parte rispetto a quelli che sono i nostri contenuti perché mi va di parlare del calcio giocato e soprattutto vorrei soffermarmi su altre dinamiche però dobbiamo essere sinceri dopo quello stop il napoli è completamente involuto ha avuto proprio difficoltà a ritrovare sia i ritmi sia quegli schemi che stavano andando benissimo e questa cosa è da sottolineare il finale di primo tempo il napoli ha sofferto perché poi il cagliari ovviamente spinto dal pubblico in svantaggio ha cercato in ogni modo di fare gol alla squadra di antonio conte però siamo stati anche lì precisi siamo stati bravi soprattutto nei posizionamenti perché sta migliorando tanto anche la fase di assorbimento ricordandoci sempre con sistema di gioco nuovo ricordandoci sempre che alla fine stanno entrando sempre più tasselli in questa squadra e molte dinamiche cambiano ma la cosa che mi ha lasciato perplesso è l'inizio del secondo tempo perché lì poi il napoli ha lasciato un po troppo spazio al cagliari è la seconda volta che iniziamo una partita diciamo iniziamo il secondo tempo da una posizione favorevole perché quando tu inizi il secondo tempo pensando di gestire la gara portandoti più a lungo possibile il vantaggio è lì che inizia a trovare un po di difficoltà infatti nella prima parte di secondo tempo il napoli si è trovato in difficoltà e dobbiamo dirlo raga santo meretta e poi meretta è stato per me il migliore in campo ha avuto il voto più alto di tutti quanti ed è stato lui a tenere in piedi la partita perché poi se lì il cagliari napoli pareggia o con luperto o con quel tiro di marino dove il nostro portiere ci mette le ditina ma mica è facile a prendere quella palla lì sull'1 a 1 ovviamente io non posso dire che il napoli pareggia o perde perché poi c'è tutta la partita però quel momento è cruciale perché poi da lì il napoli si è reso conto e questo già ci fa capire che mentalità è riuscito a mettere già nel campo antonio conte perché al di là di tutte quelle al di là di tutti quelli che sono i nostri ragionamenti tecnico tattici sulla gestione della partita sulla gestione degli uomini c'è un napoli diverso a livello di atteggiamento e quindi dopo quelle due azioni che potevano portare al parigi il napoli fa un'azione straordinaria anche questa andiamo a vivisezionare domani perché proprio allora l'azione del 2 a 0 è proprio un'azione marchio di fabbrica antonio conte perché c'è tutto c'è l'immediatezza della verticalità la giocata del terzo di difesa che entra nel campo la palla sull'attaccante e questa volta la rifinitura quindi l'assist per uno dei due trequartisti in questo caso a raschelia c'è tanto di antonio conte in quel secondo gol ovviamente sul 2 a 0 la partita si è messa in discesa per i azzurri il napoli è stato bravo a gestire anche alcuni momenti dove poteva addirittura abbassare ancora di più il ritmo invece sono rimasti sempre sul pezzo poi è arrivato il 3 a 0 su un'ottima pressione anche lì è una cosa che andremo ad analizzare perché politano è bravissimo a schermare il portiere a fare pressione per indirizzare la palla dove lui voleva poi c'è l'errore di scuffette ovviamente però ricordatevi sempre che nel calcio l'errore molte volte indotto e soprattutto in questo periodo dove l'aggiornamento del calcio è all'ordine del giorno abbiamo visto che politano andava a fare una pressione ragionata quando parlavamo di pressione organizzata esiste anche la pressione ragionata bravo qua raschella a leggere quella palla ma poi c'è il velo di politano che vale tutto il terzo gol di luca e quel velo è straordinario perché è un velo con lo scanto tale del campo perché politano sapeva tranquillamente che dietro c'era romero lucavo che era pronto a mettere quella palla in porta quindi ci sono cose belle ragà cose belle che ci possono far stare sereni il gol di buongiorno arriva a coronamento di partite di altissimo livello fatte da alessandro buongiorno e io vi dico questo l'ho detto anche ieri live perché se perso la live potete andare a recuperarla io mi sto convincendo sempre di più che buongiorno da terzo di difesa a sinistra può fare benissimo e secondo me sta diventando sempre più importante per l'idea di calcio di antonio conti ma soprattutto per la partita proprio contro il cagliari perché lì in quel caso c'era un giocatore come l'umbo che poi l'umbo abbiamo visto che è andato un po a spaziare per tutto il fronte dell'attacco però ipotizzando che lì c'hai quaraschella c'hai spinazzola che è un esterno che va molto in profondità uno che è bravo a leggere l'azione uno che è bravo a difendere in avanti uno che è bravissimo soprattutto a aiutare la pressione partendo dalla difesa io credo che buongiorno oltre al gol che ci fa piacere perché chi segna è un po come la storia di vi ricordate anche kim segna mi sembra la terza la quarta contro la lazio è un giocatore fondamentale che ha portato anche degli equilibri totali alla difesa di conte poi io voglio chiudere con un plauso ai due centrocampisti perché botca fa una partita importante di grande intensità e sta facendo benissimo il suo nuovo ruolo cioè quello di prendere la palla e andare immediatamente in verticale ma ieri va fatto un plauso a frank zambanghissà io ero proprio tra tra lui e meret tra i migliori in campo ma anghissà ha fatto una partita di un'intensità incredibile e perché fa questa partita frank zambanghissà non per chi dice quello sta mectome a paura no secondo me perché il napoli ha ridotto quelle che sono le distanze non in tutta la partita ecco questa è una cosa che bisogna un po aggiustare ma nella maggior parte della gara ha ridotto le distanze e anghissà se lo fai giocare in 30 35 metri diventa un giocatore completamente diverso che ti può dare tantissimo quindi benissimo frank anghissà benissimo lo botca e poi vi ripeto domani andiamo a fare un'analisi più approfondita ovviamente con anche i mini video all'interno che dire dobbiamo aspettare la partita di sabato che è una partita importante la giornata di campionato termina stasera però ieri abbiamo visto il passo falso dell'inter il passo falso della juve il milan che sembra tornato però di fronte c'è una squadra che secondo me veramente non è pronta per affrontare la serie a e anche la roma ha avuto difficoltà l'atalanta che pur vincendo però è andata in difficoltà e non poco con la fiorentina quindi raga al di là della classifica sono contento che siamo primi ma come ben sapete dopo quattro giornate il primo in classifica serve a ben poco però mezzo a tutte queste squadre che stanno man mano mettendosi a posto il napoli almeno sta mettendo dei punti il fieno in cascina e sta mettendo dei punti da parte e hanno ci fa piacere ragazzi io vi saluto un bacio e un abbraccio da cosa sa e sempre forza napoli ciao